Sei proprio una testa di ananas, tu! Bene, ciao a tutti! E benvenuti nella nostra cucina virtuale, con Gabriele sempre più scomodo che non riesce a trovare una posizione. Ma io non crescerò, quindi ti conviene sistemare questa postazione per fare video. Sì, oppure sperare che tu possa crescere. Non crescerò, non crescerò, se non c'è la mia strana. Peccato, peccato! E non mi fare affogare! Allora, oggi siamo qui perché faremo insieme una torta esotica. Esotica ma anche buona, buona ma anche modaiola. Modaiola perché ho visto tantissime preparazioni all'ananas e mi hanno fatto venire voglia di prepararla. Però non volendo duplicare le ricette degli altri, ho deciso di fare una torta pinacolada. Wow, una torta pinacolada! Quindi è una torta con un bicchiere dentro? No amore, è una torta a base di ananas e cocco. Però tutta con ingredienti squisitamente naturali. Spostiamoci di là e andiamola a preparare. Ed ecco gli ingredienti per la nostra torta pinacolada. Una torta estiva, fresca, morbidissima e buonissima. Innanzitutto, è sanissima soprattutto. 250 g di farina integrale, 200 g di zucchero di canna, più altri 20 g per la base. Poi vi dico, quindi vanno in due posti differenti. Questo lo vedete diverso da questo perché questo è zucchero integrale e questo è zucchero di canna normale. Poi, 100 g di farina di cocco, 130 g di olio di semi, io ce l'ho di mais. 200 g di latte di cocco, che potete cambiare o 200 g d'acqua o con 200 g di latte normale. Un cucchiaio di vaniglia, di estratto di vaniglia. Tre uova fresche, una bustina di lievito per dolci e una lattina di ananas sciroppato. Se aveste quello fresco, sarebbe ancora meglio. Io non ce l'avevo in casa, volevo fare questa torta, avevo nelle scorte lo sciroppato e userò questo. Va bene, mi perdonerete. Allora, cominciamo subito. Come prima cosa, unisco le tre uova allo zucchero. E monto ben bene zucchero e uova. A questo composto unisco anche un pizzico di sale, che non vi avevo detto tra gli ingredienti. Ma sappiate, anche quando non ve lo dico, che io nei dolci lo metto sempre. Prima di proseguire, apro la mia latta di ananas e sulla tortiera ad agio sul fondo delle fette. E guarnisco così con lo zucchero di canna su tutto. Da una parte, quindi le rigiro e faccio la stessa cosa anche dall'altra. E metto da parte. Il rimanente ananas lo frullo al bixer. Deve venire una polpa abbastanza densa, non troppo liquefatta. Quindi a questo composto aggiungo l'olio, la polpa d'ananas, il cucchiaino di vaniglia, il cucchiaio di l'essenza di vaniglia. E il latte di cocco, tutti e 200 grammi. E do una bella mescolata al tutto. Unisco anche i 100 grammi di farina di cocco. E do un'altra mescolatina. Adesso prendo i miei 250 grammi di farina, in cui verso, passandolo al setaccio, il lievito. E verso la farina nei liquidi. E adesso mixo tutto molto velocemente. E siamo pronti per versare il tutto nella tortiera. E adesso in forno per 50 minuti, circa 45-50 minuti, vedete voi col vostro forno, a 180 gradi forno ventilato. E dopo quasi un'ora di cottura, infatti ho allungato i tempi a 55 minuti, la mia torta è pronta. Come vedete, stava per, in videocamera sembra più scura, è più chiara in realtà, perché ho tardato a mettere l'alluminio sopra. Dopo i 20 minuti di cottura, mettete sempre un foglio di alluminio sulle torte, spesso su quelle che hanno una cottura più lunga. Ora la lascio a sestare un attimo, quindi la scaravolto sul piatto da portata. Eccola, fumantissima, è bellissima, togliamo il fumo, pronta la nostra torta pignacolada. Potete farla anche senza cocco e verrà una torta all'ananas, semplicissima, quindi senza al cocco e latte di cocco. Ho appena tagliato la fetta e vi faccio vedere com'è dentro. Wow, morbida, morbida, wow, compatta e bella, scura, integrale. Non è fantastica questa torta? E allora, provatela e ditemi cosa ne pensate. Io adesso stavo facendo le foto, però l'ho tagliata, è venuta così bella e te la faccio vedere ragazzi. Basta, vi lascio davvero alle foto, ci vediamo dopo, ciao! Bene, se vi è venuta voglia di prendere una bella fetta di torta e riva al mare sotto una palma, Allora, questo è il video giusto, siamo stati veramente bravi e quindi se anche voi avete queste voglie strane... Siamo stati veramente bravi. Siamo stati bravi, sì, sì, sì. Tu a mangiarla, moltissimo. Ho integrato anche te perché mi sembra giusto. Grazie, buone. Preparate questa torta e fateci sapere cosa ne pensate. Bene, bene, soprattutto se i vostri mariti l'hanno apprezzata come il mio. Dove stai andando? Sì, sì. È inquietante. Allora diverti un sacco però, sai? Eh, infatti. Non capisco perché, gusto dell'orrido. Va bene. Bene, quindi condividete questo video, pubblicatelo sulle vostre pagine Facebook e mi raccomando mettete tanti pollici in su. E noi quindi vi aspettiamo alla prossima videoricetta qui su queste nostre tavole. Quali vostre tavole? Stai zitto. Qui sulle vostre tavole. Sulle vostre, brava. Ciao, ciao. Ciao, ciao ragazzi, stiamo degenerando. Ciao, buona pigliacola da tutti. È buonissimo.